Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno di Flavio Validuo, giunto di Paz Palomas Mi raccomando, gli amici che vengono a trovarci qui nel canale non dovete perdere assolutamente questo spettacolo della natura, esattamente, lo potete trovare solo qui, qui a Paz Palomas Gran Canaria, assolutamente sì, ci aspettiamo qui, poi la sera, solo per i locali che cambiamo e perdere in questo spettacolo della natura, meglio in questo, sempre, sempre, sempre Caldo 8,11,60,50,50,50,50,50,50 Geppi, Paz Palomas Ciao 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 Arianna Opa, opa, opa Oh, 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 oh Mariana Opa, opa, opa Mais che nada Sai da mia frente che io puro passar Pois il samba sta animato O che io quero è samba E questo samba Che è pino di maracato E' samba di petto bello, samba di petto Ma che nada, un samba come questo è legale Tu non va volerare che io che il fine